Come da tradizione, dopo la festa del Santo Patroni, i vittorisi trasferiscono nella loro abitazione estiva Scoglitti. La loro presenza, oltre a quella dei turisti, attira da sempre l'attenzione di numerosi venditori ambulanti e, di conseguenza, si intensificano da parte le forze dell'ordine i controlli di competenze. E, proprio nella giornata di ieri, lunedì, durante un controllo operato dalla Polizia Municipale, nei confronti di un ambulante abusivo, la situazione è degenerata. Alle richieste, infatti, di esibire licenze e documenti, Antonio Meli, 33 anni di Comiso, è andato in escandescenza al punto tale da aggredire i vigili al colpo di cassette di ortaggi. Decisivo si è rivelato a quel punto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri alla locale stazione in servizio di controllo sul territorio. Alla vista dei militari, l'ambulante ha cercato di darsi alla fuga, ma è stata immediatamente bloccata e portata in caserma. Qualche graffio e qualche ematoma per un vigile urbano e le manette, invece, per l'ambulante di Comiso. Dopo le formalità di rito, l'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari. Grazie a tutti.